In sull'estremità d'un'alta ripa, che facevano gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa, e quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo indietro, ad un coperchio d'un grande avello, ovì ovì di una scritta che dicea Anastasio Papa Guardo, lo qual trasse fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, si che sausi un poco, imprima il senso al tristo fiato, e poi noi fia riguardo. Così il maestro. E io alcun compenso, dissi lui, trova che il tempo non passi perduto, ed elli vedi che a ciò penso. L'undicesimo si apre con una sequenza narrativa. Ormai, nella città di Dite, superata la piana coi sepolcri degli Eresiarchi, i due poeti arrivano al punto in cui bisogna scendere ancora. L'inferno si fa più profondo. E qui però c'è un odore intollerabile. E allora si fermano dietro a un masso, così che i sensi diventino un po' più assuefatti a questo tremendo odore infernale. Ma questa è già l'occasione per Dante per riprendere, come con una cerniera poetica, il discorso del canto precedente, che era, ricordiamolo, il discorso dell'eresia. Infatti, se prima avevamo incontrato il personaggio di Farinata, che era di parte Ghibellina, adesso ci troviamo di fronte alla tomba di Papa Anastasio, che la leggenda voleva come caduto nell'eresia monofisita, che presupponeva che in Dio non vi fosse la duplicità della natura umana e divina, ma solamente la natura umana. E questo discorso per Dante è rilevante, ha un preciso significato. Il poeta intende dire che l'errore di fede, l'errore di ragione, non appartiene a una precisa parte politica. Avevamo un Ghibellino da una parte, qua abbiamo un Pontefice addirittura, ma che qualsiasi uomo può essere, può scegliere il peccato. E qui di nuovo allora la centralità della commedia come viaggio della scelta, di indagine del libero arbitrio. Dante dice a Virgilio, allora, ora che dobbiamo aspettare, troviamo una compensazione, così che questo tempo non passi in vano. E Virgilio gli risponde, sto pensando a questo. E qui si aprirà la grande questione dottrinale della suddivisione dell'inferno, della ripartizione delle colpe nell'inferno, che risponde a una precisa domanda, che è quella di come la presenza di Dio si manifesti nell'inferno stesso, e che ci porta a introdurre il discorso sul duplice volto di Dio, volto da un lato di misericordia, dall'altro di severa giustizia, senza che queste due parti siano in contraddizione. Ed inizia. Con un attacco piano, come di una consuetudine di dialogo che ormai si è instaurata, Virgilio. Figlio mio, dentro questi sassi, scendendo ancora, sono tre cerchi, di grado in grado, come quello che ora lasciamo. Tutti sono pieni di spiriti maledetti. Attenzione, al 19, con questo maledetti chiara, la citazione evangelica, la citazione scritturale da Matteo, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. E Virgilio dice, ma perché dopo ti basti la vista, cioè perché ti sia sufficiente camminare fra le anime per comprendere, intendi, cioè comprendi, che io ti spiegherò come e perché sono costretti, cioè in quale sia la loro pena e perché questa sia la loro pena. D'ogni malizia, di ogni atto del male, questa malizia, vedremo, è una parola importante perché è la divisione tra chi sta dentro e chi sta fuori dalla città infernale. Infatti, chi sta fuori dalla città di Dite ha peccato di incontinenza, era travolto dalla passione, ma qua si introduce un tema fondamentale che è il tema del concorso della ragione nel peccare, cioè il malizioso. Questa è la grande divisione dell'inferno. Da un lato l'incontinente, colui che non si è riuscito a controllare di fronte alla passione, da un altro lato i maliziosi tutti. Poi vedremo i violenti, i traditori, i fraudolenti, ma la distinzione profonda sta in quella facoltà che così Dante reputava alta dell'uomo nella ragione che viene in un lato vinta nell'incontinenza ma dall'altro lato opera per il male. Virgilio spiega di ogni atto malvagio compiuto con la ragione che acquista odio nel cielo, cioè che è in viso a Dio, ingiuria il fine. Cioè ingiuria lo leggiamo come ingiustizia e ogni fine cotale qua inizia una sotto ripartizione o con la forza o con la frode arreca danno agli altri. E quindi la grande distinzione fra i violenti e i fraudolenti. poi vedremo i fraudolenti sono ancora suddivisi fra chi tradisce chi non si fida e chi tradisce chi si fida. Sul fatto che chi tradisce chi si fida stia nel punto più basso dell'inferno dobbiamo soffermarci e infatti quell'amore libero quell'amore scelto che si crea tra gli individui ciò che fonda l'intero viaggio dantesco. Ricordiamolo Dante non è in alcun modo degno di compiere il viaggio ma per amore gli viene data questa possibilità e allora chi in terra viola quel fedus quel patto d'amore che si è impegnato a difendere con un'altra persona è degno del più grande biasimo di Dio. Virgilio continua di violenti il primo cerchio è tutto ma perché si fa forza a tre persone in tre gironi è distinto e costrutto. Poi si vedrà la violenza verso se stessi la violenza verso il prossimo la violenza verso Dio. A Dio a sé al prossimo si pone far forza dico in loro e in loro cose come udirai con aperta ragione morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno nel suo avere ruine incendi e tollette dannose onde omicide ciascun che malfiere guastatori e predon tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. quindi primo girone il male che si compie nei confronti del prossimo di tutto gli omicidi i predoni l'uomo poi può avere verso di sé la mano violenta nei suoi beni e quindi nel secondo girone Virgilio spiega c'è la violenza verso se stessi chiunque priva di sé priva sé del vostro mondo i suicidi biscazza e fonde la sua facoltà chi gioca chiaro qua la eco di Aristotele anche attraverso il commento di San Tommaso il prodigo è quasi come preda dello dello sciupare i propri beni non è al punto tale che non è padrone di sé stesso colui che in generale è violento verso sé stesso Virgilio dice chiaramente piange là dove deve essere giocondo là dove deve essere felice 46 si può far forza cioè si può essere violenti nella Deitade si può essere violenti verso Dio negandola col cuore bestemmiandola dispregiando la natura e la sua bontà e per questo motivo l'ominorgirone cioè che si fa più stretto ricordiamo la struttura imbuto dell'inferno del segno suo Sodoma e Caorsa e chi spregiando Dio col cor fa vella Sodoma il peccato di sodomia di omosessualità contro natura qua non si parla della modernità di Dante e dall'altro lato sicuramente allora più trasparente il riferimento alla scrittura con Sodoma Caorsa forse riferimento meno meno trasparente la città francese di Caor era conosciuta al tempo di Dante per il gran numero di usurai che esercitava lì questa professione che poi vedremo nella spiegazione nella domanda di Dante non è proprio una professione e infine qui si conchiude qui si si chiude la descrizione dei violenti e dal 51 in poi si passa alla distinzione dei fraudolenti la frode ond'ogni coscienza emorsa può l'uomo usare in colui che in lui fida e in quel che fidanzano in borsa allora la distinzione di cui dicevamo prima frode contro chi si fida frode contro chi non si fida importante al 52 la eco di cicerone che appunto nel vediamo un po' non mi ricordo più il testo non l'ho segnato comunque qua riprende la cicerone che dice il fraudolento riceve innanzitutto in se stesso la sua punizione nella sua coscienza e qui la citazione è quasi letterale in Dante e questo ci permette di introdurre un discorso quello cioè per cui la struttura dell'inferno è basata su Aristotele è basata in altre parole su una morale pagana in questo modo Dante lascia in quell'oscurità di ciò che ha preceduto la rivelazione nell'oscurità di chi non conosce Dio l'interezza della struttura infernale e questo è un profondo significato etico e religioso questo modo di retro parchi incida pur lo vinco d'amor che fa natura onde nel cerchio secondo sannida ipocrisia lusinghe chiaffattura falsità ladroneccio e simonia ruffian baratti e simile lordù Dante parla qua di un primo livello di frode cioè la frode verso chi non si fida la frode che viola quel naturale rapporto di amicizia che esiste tra gli uomini ma poi dice ancora ancora è più grave quando verso 63 si viola quella fede speziale cioè quell'amore liberamente scelto tra gli individui onde nel cerchio minore ove il punto dell'universo in su che dite siede qualunque trade in eterno e consunto e allora la spiegazione di come abbiamo già detto sia della massima gravità tradire l'amore liberamente scelto che dicevamo prima è ciò che fonda la possibilità stessa del cammino di Dante nell'oltremondo e adesso secondo una procedura consueta c'è la domanda di Dante che chiede maestro assai chiara procede la tua ragione e assai ben distingue questo baratro e il popolo che possiede ma dimmi quei della palude pingue che mena il vento e che batte la pioggia e che si incontrano con si aspre lingue perché non dentro della città roggia sono i puniti se Dio li ha in ira e se non li ha perché sono a tal foggia Dante chiede come mai tutti i peccatori che abbiamo incontrato prima della città di dite che qua chiama città roggia città rossa non sono qua dentro se Dio li ha in ira e se non li ha in ira perché subiscono la punizione e Virgilio risponde come un maestro severo perché tanto delira disse l'ongegno tuo da quel che sole over la mente dove altrove mira non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica pertratta le tre disposizioni che il ciel non vuole incontenenza malizia e la matta bestialitade e come incontenenza men di offende men biasimo accatta Dante lascia che compaia qua nel testo chiaramente il riferimento Virgilio dice con le quali la tua etica pertratta è chiaramente l'etica anicomaco di Aristotele e qui si presenta quella distinzione di cui abbiamo già parlato da un lato fuori dalla città di dite l'incontinenza cioè laddove la ragione è travolta da un lato verso 82 la malizia cioè il concorso di ragione nell'azione e poi aggiunge Dante la matta bestialitade su cui ci sono dibattiti aperti su come si debba intendere questa matta bestialitade ma che probabilmente è da intendere così anche la maggior parte dei commentatori tra cui anche i più vicini come il Pietro di Dante come semplicemente la violenza allora spiega Virgilio meno biasimo accatta l'incontinenza e meno in odio a Dio in quanto la ragione lo ripeto ne è travolta ma non concorre al compimento del peccato se tu riguardi ben questa sentenza e recchiti alla mente chi sono quelli che su di fuor sostegno in penitenza tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché me è incruciata la divina vendetta li martelli o sol che sani ogni vista turbata tu mi contenti sì quando tu solvi che non men che saper dubbiare ma grata Dante riprende a parlare con una captatio benevolentia verso il suo maestro e gli dice lo chiama sole ed è frequente in Dante la metafora del sole come metafora della conoscenza gli dice provo è così soave la cognizione quando tu mi spieghi maestro che avere il dubbio non mi aggrada meno che sapere e Dante gli chiede torna un po' indietro e soffermati dove tu dicesti che l'usura offende la bontà divina e risolvimi il dubbio filosofia mi disse a chi l'antende nota non pure in una sola parte come natura lo suo corso prende dal divino intelletto ed a sua arte se tu ben la tua fisica note tu troverai non dopo molte carte che l'arte vostra quella quanto può te segue come il maestro faldiscente sì che vostra arte a Dio è quasi nepote da queste due se tu ti recchi a mente lo genesì dal principio convene prender sua vita e avanzar la gente e perché l'usuriere altra via tene per sé natura e per la sua seguace dispregia poi chi in altro pon la spene il ragionamento di Virgilio è sottile la domanda di Dante è questa come mai l'usuraio viola commette un peccato nei confronti di Dio e allora il sillogismo è questo sempre mutuato da Aristotele così come Dio con la sua arte crea la natura così l'arte dell'uomo imita la natura possiamo dire nell'arte intesa come comunicazione ma anche e qua si cita la scrittura la Genesi prende dalla natura l'arte come lavoro dell'uomo ricordiamo a Genesi col tuo sudore tu mangerai che cosa significa allora che se l'arte che l'uomo fa a partire alla natura come mestiere come arte in senso stretto è come lui dice qua è nepote è in qualche modo legata all'arte con cui Dio crea il mondo l'usuraio che ripone la sua professione non a partire da un lavoro in senso stretto un lavoro che esiste che arricchisce la comunità che parte dalla natura quanto più sul raccogliere frutti dal lavoro degli altri dice l'usuraio fa torto all'arte stessa che ha creato il mondo ed è quindi ingiusto verso Dio e il canto si chiude con una ampia perifrasi astrologica su cui io come sapete non mi addentro che significa che il mattino si sta avvicinando e il parlare dei due poeti il dialogare insieme questo importante momento strutturale del canto undicesimo fondamentale perché offre le ragioni teoriche della suddivisione dell'inferno quando già nell'inferno il lettore è entrato qua Chiavacei fa un bel ragionamento e dice Dante ce le dà solo dopo le ragioni teoriche quando noi siamo già stati convinti da altre ragioni che sono chiaramente quelle poetiche della bellezza poetica dell'inferno e allora il parlare dei due poeti si risolve ancora una volta con un'esortazione di Virgilio a proseguire il cammino grazie